Siamo qui al Grand Hotel Guinigi a Lucca per presentare un equipaggio diciamo lucchese in occasione del trofeo Reli Asfalto che inizierà proprio fra pochi giorni e siamo quindi con Rudy Michelini e Michele Penna che ci diranno un po' questo cambio di programma e questa emozione a correre con una vettura decisamente prestigiosa. Sì, abbiamo partito con fare il campionato italiano, poi purtroppo ritiro al ciocco e la mancata partitazione per via di impegni lavorativi al Mille Miglia abbiamo dirottato il nostro programma al TRA con una WRC, precisamente la C4 quindi sicuramente partiamo con il girone B, quindi la prima gara sarà il rally della marca Trevisiana tra tre giorni e sperando di riuscire a fare un bel risultato anche se per me è la seconda volta che guido una WRC anche se la prima è stata una vecchia corolla quindi molto diversa dalla C4. Speriamo di fare una bella gara e di prendere piano piano in mano la C4 e vedere dove si arriva. Ecco Michele, proprio a proposito di questa C4, è una vettura che ha vinto il campionato del mondo lo scorso anno quindi è una vettura decisamente performante ma penso anche non semplice da gestire. Avete avuto dei test e quindi un'idea ve la siete fatta? Sì, noi abbiamo fatto un primo approccio la scorsa settimana, siamo riusciti a fare circa una cinquantina di chilometri. Da lì inizialmente ci è sembrata una macchina facile, poi da lì a riuscire a portarla a certi livelli abbiamo sicuramente ancora bisogno di starci sopra e quindi anche la gara della marca trivigiana per noi deve essere comunque un continuare il test che abbiamo fatto giorni fa perché è un po' improbabile pensare di pronti via essere al top con queste vetture che sono di una professionalità estrema. Comunque noi ci accingiamo in questa nuova esperienza che è sicuramente affascinante perché poter montare su una VRC come la Citroen C4 che l'hanno avuta in mano piloti come Sebastian Loeb e già abbiamo detto tutto, sicuramente è una bellissima esperienza. Rudy, hai provato per qualche chilometro questa C4, la differenza fra la C4, quindi una VRC e la Super 2000 con cui hai ottenuto dei bei risultati lo scorso anno qual è quella principale, quella che magari è saltata subito dall'occhio? Ma mettere a confronto la vedo difficile perché sono totalmente due macchine differenti, sono tutte e due macchine molto professionali la Super 2000 penso che eravamo arrivati a una bella situazione con la conoscenza della Super 2000, con la C4 si parte da zero le differenze sono tante, la cosa più che mi ho professionato è il motore, la partenza soprattutto che è veramente da cuore in gola e poi la percorrenza in curva, la frenata, il cambio che è al volante quindi molto differente dalla Super 2000 ma sicuramente sarà una gara, cioè sarà difficile al Mark a fare risultato anche se ce la metteremo tutta. Due parole su questo trofeo, Reli Asfalto che è decisamente interessante e anche ha una certa visibilità perché viene seguito attentamente da tutti i mass media come del resto del campionato italiano e su questa formula dei due gironi più le due finali che sono gare di alto prestigio. Sì, sicuramente quest'anno il trofeo Reli Asfalto è stato un attimino rivisto in quanto è articolato inizialmente su due gironi, due gironi da tre gare ciascuno. Poi ci saranno le due finali che saranno i Reli di Sanremo e i Reli di Como. C'è da dire che appunto per come è articolato il campionato abbiamo la possibilità anche sotto questo aspetto di poter prendere in mano la vettura passo dopo passo perché il punteggio delle gare iniziali abbiamo un certo tipo di punteggio che per le finali verrà rivisto e ci sarà più differenza fra chi vince e chi arriva dietro. Quindi abbiamo la possibilità di avanzare con calma, di prendere in mano la vettura per poter arrivare poi alle finali che saranno decisive con una conoscenza sicuramente maggiore. Finali Reli di Como e Reli di Sanremo, non hanno bisogno di presentazioni queste gare? Ah no, assolutamente. Sanremo e Como lo conosco abbastanza bene, una gara che tutti conoscono. Quest'anno penso, quest'anno è il quarto anno che partecipo, mentre il Como lo abbiamo fatto nello scorso anno. Quindi noi sicuramente saremo un po' più avvantaggiati della concorrenza a parte Tobia Cavallini, ma con fronte a Rè e Pedersolli penso che siamo un po' più avvantaggiati perché l'abbiamo fatto, mentre loro penso che l'abbiano fatto molto meno che di me. Quindi piano piano speriamo di prendere in mano la macchina e dare il massimo nelle due gare finali. Bene, con questa breve intervista dal Grand Hotel Guinigi vi salutiamo e auguriamo ai nostri due conduttori di ben figurare in questo trofeo dell'asfalto che veramente nel 2011, quest'anno si preannuncia veramente.